quindi due minuti dopo partite da 13 ok 20 10 destra 5 sale destra 5 sale per sinistra 5 per accenno destra molta molta attenzione dosso molla per sinistra 3 meno meno in accenno destra per destra 3 2 tempi rotta in sinistra 2 chiude taglia per sinistra 4 in destra 3 apre 30 sinistra 3 meno meno per destra 2 chiude sale 50 cielo sinistra una madonna stacca in versione a destra a cartello sinistra 5 per sinistra 4 meno su dosso attenzione sinistra 100 sinistro scompone per sinistra 4 meno per destra 3 più molta attenzione scompone in sinistra 5 meno attenzione dosso per destra 4 meno meno in sinistra 4 meno meno lunga per destra 3 scompone a cartello ritardo a destra 3 meno meno scompone stacca in versione a destra in versione a sinistra per destra 3 più rotta in sinistra 3 con riga rotta in sinistra 4 in destra 4 per molla addosso per sinistra 4 rossa in dosso per accenno dentro in sinistra 5 per destra 3 meno meno scompone per sinistra 4 scompone in destra 4 per sinistra 2 attenzione attenzione in destra 3 apre bravo per destra 4 regola in sinistra 3 meno per destra 3 meno lunga in accello sinistro in destra 4 meno meno attenzione sinistra 3 meno meno diventa 2 per destra 3 diventa 4 meno ah per destra in és hijo dice водa per destra però meno, per molta molta attenzione destra 3, sinistra 3 stringe, 20, destra 5, destra 4 scompone e apre, alpino stacca, accendo sinistro in inversione destra, subito destra 5, bravo 200 alpino in sinistra 5, 100 sinistra 2, in destra 2, siamo a destra 2, in sinistra 2, 200 destra 5 100, usci in casa, sinistra, destra sinistra 200 per tiri, spacca destra 2 per sinistra 3, apre in destra 3, meno, taglia con sinistra 3 in destra 3, in sinistra 2, gira, gira, chiude in accenno destro 30, sinistra 4, meno, meno per destra 3, meno in sinistra 3, apre 100 per tornare destra 2, gira, gira, chiude 30, destra 4, meno, in accenno sinistro si, 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 si questo, destra 4, meno, in accenno sinistro alpino in destra 2, gira, chiude 50 attenzione, sinistra 2, gira 100 destra 3, più, destra 3, meno, meno, chiude in sinistra 2 sinistra 5, fine 28, 5, 51 27, 5, 59 29, 6, 21 30, 30, 31, 24, sei a venticinque 31 sette e trevici 28 genoglio 602 01 01 Iscriviti al canale